Ecco qui molto bene Mariotti, quindi Massari, fallo lungo sulla destra, Gialu, va al tiro il numero 3, arriva subito il vantaggio dell'Icia dopo 47 secondi, Florian Gialu 0-1 E' pronto Gasda, va con la botta, palla che impatta sulla traversa E prende un giro stranissimo perché poi non rimbalza davanti ma va a finire in fallo laterale Gira molto bene qui per il numero 3, Gialu, autore del vantaggio, ancora Gialu, la botta da fuori, Rosini rimane fermo, riesce ad intercettare Ci pensa di cruce qui, ancora la cosa di sinistra, bandolino e il tiro, Baeso, prima con le mani poi con i piedi, impedisce il pari a Real Madrid Va lui centralissimo, Baeso con i pugni, deve rincorrere il pallone, Aiola con le nitrite, lo recupera sempre il numero 19 Centralmente la spediotto che si accentra, quello numero 6, il tiro, la prende pochissimo, cresce Real Madrid ancora Lungora Contento, Aiola, tenta il tiro, Baeso Copre molto bene poi Mandolino, respinta a palla, in calcio d'angolo Ancora Real Madrid in che in avanti Spediotto Tiburzi, attenzione a palla centrale per il contento, va al tiro, traversa Sale il numero 10, buono lo scambio, ancora Mariotti all'interno dell'area di rigore, vertice basso nell'area di rigore di sinistra Il palo, nitrite, rimane a terra, non è finita Spediotto, ne esce ora molto bene Real Madrid Norino, la gioca per Tiburzi, da fuori Spediotto, si porta il pallone sulla sinistra, tenta il tiro E' arrivato il pari, targato il numero 6 Emanuele Spediotto Va a gas, da Rosino di Cugni Mariotti Bravo Molto bene qui Mandolino Nitrite contro Besu, parte Real Madrid, va a nitrite, centrale, potente 1-0 Con Andrea Un crociato sotto il 7, sulla sinistra, 1-1 Pronto Mario Tiburzi Va al numero 11 il tiro, alto Pronto Mariotti Tiro, gol 2-2 Accontento Terzo rigore in favore Il Real Madrid Tiro, gol Periore fondamentale qui per l'Icia Parte numero 7, forte, gol La vince, l'Icia 3-2 Tiburzi aveva tirato alto, siamo stati ingannati anche noi da la rete qui